Oggi è con noi il presidente del circolo banca Montepruno eh il dottor Aldo Rescinito che eh medico già primario eh dell'ospedale di Polla. Eh buongiorno dottore. Buongiorno. Allora eh innanzitutto vogliamo spiegare come nasce il circolo banca Montepruno con quali finalità. Eh ma il circolo nasce per volontà specifica diciamo degli organi statutari della BCC Montepruno di Ruscigno e di Laurino ehm in seguito a una comunicazione del dell'attuale presidente eh l'avvocato Filippo Mordente eh inviata a tutti i soci della banca che sono oltre mille soci, lo stato attuale credo che siano mille cinquecento soci. Sì. I soci della BCC con ehm diciamo l'intento di costituire un braccio operativo di costituire un circolo eh che eh potesse in qualche modo portare avanti le iniziative concrete eh concordate e volute dalla banca medesima e ehm potesse portare queste iniziative a favore non solo eh dei soci eh dei clienti della banca, dei dipendenti della banca ma soprattutto delle comunità di quei comuni che alla banca stessa afferiscono cioè i comuni di competenza della banca. Sì perché eh diciamo la missione della BCC Montepruno delle banche di credito cooperativo eh la missione non è solo quella eh di tipo economico finanziario ma anche sociale. Sì. Il 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 circolo nasce diciamo per questi motivi? Nasce dall'esigenza di coniuguare meglio appunto il rapporto tra la banca e la società. Coniuguare meglio il rapporto non solo di tipo associativo che eh diciamo riguarda gli associati ma di coniuguare meglio il rapporto tra l'istituto bancario e il territorio eh di competenza per mettere a disposizione del territorio di competenza tanti servizi, tanti atti concreti che noi eh da tre o quattro anni eh epoca eh diciamo di vita del circolo medesimo. Il circolo è sorto nell'estate eh del duemila e sette quindi diciamo che sono quattro cinque anni di attività eh abbiamo mh cercato di portare avanti concordando tra di noi soci del circolo e siamo olti centocinquanta più eh gli organi direttivi della banca in particolar modo con il direttore generale Michele Albanese che è un carissimo amico che è disponibile e che diciamo è quello che ci sprona e quello che ci aiuta e quello che ci sostiene in ogni nostra azione perché è necessario trovare del tempo libero da parte nostra per dedicarlo eh tutto quanto intero a questa nostra attività. Circolo con sede a Sant'Arsenio quindi sono tantissime attività che fate ehm entreremo nello specifico eh più avanti intanto eh possiamo sintetizzare attività di tipo culturali di creative assistenziali di formazione anche turistiche perché fate anche le viaggi insomma. Sì noi svolgiamo variate attività di cui come lei accennava possiamo magari pagare parlare in un secondo momento sia sul magari accennando al pregresso e sia soprattutto facendo riferimento a quello che intendiamo fare nei prossimi mesi e nei prossimi e nel prossimo futuro. Mi premeva però diciamo sottolineare in questa prima fase eh il rapporto personale di ognuno di noi, mio e di tanti altri amici che fanno parte del circolo nei confronti del rapporto personale con alcune alcune persone, alcune personaggi della banca. Cioè noi condividiamo, abbiamo condiviso sin dal primo momento il modo nuovo di fare banca da parte della BCC Montebruni di Scena perché abbiamo visto che ehm esprime gli stessi valori che ognuno di noi nella propria attività professionale, nella propria attività lavorativa ha messo in campo in ogni momento della propria vita. E allora questa condivisione, io l'ho espresso svariate volte, mi piace ricordarlo ancora in questa occasione, questa condivisione di messaggi, questa condivisione di lavoro, questa condivisione di porgere se fosse necessario la mano a chi magari ha bisogno in un particolare francente della propria vita, come abbiamo fatto con tante attività a cui faremo riferimento, ci trova perfettamente all'unisono e ci fa andare avanti e d'accordo come se eh fosse avvenuto fra noi un contratto di fidanzamento o matrimoniale, nel senso che eh non ci sono ehm difficoltà nell'indenterci in questui o meno in questo senso e andiamo bene avanti così. Benissimo, allora tra poco parleremo di alcune delle iniziative, dei progetti portati avanti dal circolo banca Montepruno con il presidente Aldo Rescinito. Intanto possiamo dare la linea alla pubblicità. Una Caterina Casalli Doc con insieme a te non ci sto più ed è un nostro omaggio all'ospite di questa mattina eh che ci diceva microfoni spenti tra virgolette chiama le canzoni degli anni sessanta e settanta italiane e beh devo dire la verità un po' tutti sta di fatto che queste canzoni eh hanno avuto delle cover anche negli ultimi anni non so il grande Franco Battiato proprio con Caterina Caselli ma anche Claudio Baglioni e poi i nuovi gruppi tipo i Modao e Negramaro hanno impostato il loro modo di fare canzoni proprio in base alla beat generation degli anni settanta quindi insomma credo dottore Rescinito le è piaciuta questa canzone molto molto grazie vabbè insomma era un omaggio ma soprattutto la voglia proprio di capire quanto è bello il nostro paese anche da questo punto di vista non ce lo dimentichiamo no? Certo. A te Pino. Sì invitiamo il dottore Rescinito ad ascoltare magari Italian Bar qui a Radio Alfa dalle sette la mattina alle otto e trenta c'è proprio uno spazio quindi un'ora e mezza dedicata proprio a questa musica degli anni sessanta eh dottore Rescinito allora eh continuiamo con le attività del circolo banca Montepruno tra l'altro lei è anche presidente dell'associazione culturale Luigi Pica di Sant'Arsenio lo diciamo perché eh queste associazioni collaborano per delle iniziative poi a proposito di musica eh colgo l'occasione per sottolineare una delle uno dei progetti portati avanti proprio dal circolo eh si tratta del festival baby del baby festival che a giugno ha avuto la la fase finale. Sì eh un'iniziativa a cui abbiamo immaginato di eh portare avanti eh e l'abbiamo diciamo abbiamo così eh insieme alla banca sempre circolo e banca eh dato vita alla prima edizione del festival del baby festival Montepruno eh individuandolo come baby perché riservato quest'anno ma mi immaginiamo di fare la stessa cosa anche l'anno ventuno a fa una fascia di età che va dai sei ai dodici e dai tredici ai diciotto ehm un'iniziativa che ha riscosso molto richiamo che ha riscosso molti consensi che ha visto partecipare non solo i ragazzi gli amici dei ragazzi ehm chi come me forse anche come lei sì ha partecipato all'ultima serata credo che lei sì ero ero anche in giuria tra l'altro sì sì partecipassa appunto fosse uno dei giurati eh ha visto l'entusiasmo degli amici che accompagnavano i ragazzi e delle famiglie c'erano c'era un tifo incredibile i genitori i nonni i zii cioè praticamente nel pala russo dove abbiamo appunto fatto l'edizione finale del diciotto giugno io credo senza voler esagerare che c'erano oltre mille settecento mille ottocento persone la sera della finale e la stessa calca lo stesso interesse e lo stesso entusiasmo noi lo abbiamo abbiamo avuto modo di poterlo apprezzare durante la fase di selezione di preparazione nel teatro comunale eh di Sant'Arsenio per la verità io all'inizio era un poco io personalmente un poco scettico di fronte a questa iniziativa però sì perché si pensava addirittura di farla a livello nazionale per avere più partecipanti invece no sì si pensava di allargare eh diciamo ehm l'iniziativa la partecipazione anche ad altri territori noi l'abbiamo limitata semplicemente ai quarantacinque e quarantasei territori e paesi di eh tutto il territorio di competenza della BCC allargandolo ehm a Marsico nuovo che è una delle ultime sedi della della BCC poi successivamente è venuta l'apertura della filiale a Villa d'Acri e quindi diciamo in grosso modo una cinquantina di comuni abbiamo avuto tante di quelle richieste di partecipazione da parte eh di ragazzi di tutte le fasce d'età che è stato difficile anche eh per fare la selezione e tanto che abbiamo dovuto poi impegnare dei tecnici perché non potevamo certamente noi sì essere in grado di poter scegliere i migliori da portare in finale e e ad ogni buon conto in finale sono arrivati dei ragazzi veramente bravi dei ragazzi veramente preparati dei ragazzi che hanno dato sì la giuria devo dire ha avuto un compito arduo a scegliere poi i veramente i più bravi magari eh per un mezzo punto per un quarto di punto c'è stato l'imbarazzo di scegliere i più bravi e e dirò di più sì scusa questi vincitori ma anche altri che hanno partecipato stanno ripetendo hanno ripetuto nel corso dell'estate scorsa anche partecipazioni eh ad altri eventi musicali dedicati ai bambini in vari territori non solo del valloridiano ma anche eh in zone diverse dal valloridiano quindi è un'iniziativa che è andata a segno poi alla fine è un'iniziativa che noi immaginiamo di ripetere come seconda come terza edizione per gli anni a venire è un'iniziativa eh che dimostra ancora una volta che eh l'impegno eh che noi tutti quanti diciamo sia il CISCOLE sia la banca sia gli ordini eh statutari della banca mi riferisco principalmente eh Michele Albanese ma mi riferisco anche ad altri amici che fanno parte del consiglio direttivo che sono amministratori insieme a Michele Albanese della banca diciamo l'impegno di tutte queste persone ha portato poi alla fine a dei risultati concreti e tangenti. Poi diciamo questo festival nasce perché eh il Circo Lombanca Montepruno la stessa PCC naturalmente ha eh come obiettivo quello di valorizzare i talenti presenti sul territorio quindi i talenti possono essere in campo musicale in in tutte le arti insomma e quant'altro e quindi parleremo anche delle altre iniziative per valorizzare proprio eh le specificità eh del territorio nel prossimo collegamento poi chiuderemo eh insieme al dottor Aldo Rescinito. Intanto ancora musica. Continuiamo nella nostra direzione che è quella di darvi l'informazione in tempo reale e anche spunti di riflessione oggi con un ospite in particolare. A te Pino. Sì puntata speciale di Banca Amica lo ricordo siamo con il presidente Aldo Rescinito presidente del circolo Banca Montepruno. Ecco fuori dai microfono dicevamo il tempo passa velocemente in radio dottore diceva tante cose avrei tante cose da dire ma eh necessariamente dobbiamo fare una sintesi. Ecco a proposito di valorizzazione dei talenti e di giovani eh quali altre iniziative eh insomma ha ha messo in atto il circolo? Ma eh noi diciamo che negli ultimi tempi soprattutto nell'ultimo anno eh insieme alla Banca abbiamo portato avanti la nostra il nostro impegno e la nostra attenzione verso il mondo giovanile con tantissime iniziative eh voglio riferirne solo alcune che mi sembrano importanti e e doveroso da parte mia ehm in questa occasione riportare. Eh mi riferisco per esempio eh innanzitutto alle borse lavoro. Mmh. Noi abbiamo immaginato già eh qualche anno addietro insieme alla Caritas Diocesana ehm più precisamente a Don Vincenzo Federico insieme alla Banca e noi circolano di istituire di fare un regolamento con la Caritas e di ehm istituire a favore di persone giovani eh inoccupanti. Sì. Eh che ci segnalava proprio la Caritas di istituire delle borse lavoro o con quattrocento euro che noi abbiamo pagato e paghiamo al mese per ogni eh individuo per ogni giovane che ha diciamo o a carico familiare particolare o a situazione. Quanti sono i beneficiari? Al momento noi abbiamo istituito sette borse lavoro. Di queste sette borse lavoro mi fa piacere sottolinearlo eh distribuite eh diciamo in maniera eh così eh o meno equa su tutto su tutto il territorio. Mi fa piacere dire che tre di queste sette borse lavoro sono andate a buon fine nel senso che i soggetti eh beneficiari hanno dimostrato tanto attaccamento e tanta buona volontà da essere assunti poi a tempo indeterminato a tempo indeterminato dal tempo determinato che avevano fatto perché la borsa lavoro dura solo sei mesi. Sì sì. Quattrocento euro al mese eh non non è granché non è gran cosa però per un giovane che ha problemi familiari che è meno fortunato di noi io credo che quattrocento euro al mese sia in un modo per dargli una mano per aiutarlo a risolvere i problemi più urgenti, più necessari della propria vita. Se poi a questo si aggiunge la la fortuna diciamo è anche questo il messaggio della borsa lavoro che il giovane mostra attitudine, capacità eccetera, il dottore di lavoro lo assume definitivamente tanto di guadagnare. Sì è una messa alla prova. Io devo ringraziare i datori di lavoro che sono nostri soci, sono imprenditori del territorio che sono anche nostri soci perché eh noi come circolo abbiamo messo a disposizione trecento euro e cento euro sono a carico diciamo di chi assume questa persona. Questo è un progetto che noi abbiamo chiamato solidarietà del lavoro che intendiamo proseguire anche per gli anni a venire. Insieme alla banca ogni anno istituiamo delle borse di studio per eh figli di soci o diciamo di dipendenti della banca o dipendenti stessi della banca che abbiano mostrato particolari capacità nel campo scolastico eh diplomandosi un istituto superiore o laureandosi in una determinata disciplina con delle borse di studio che solitamente noi distribuiamo un corso della nostra festa assembleare annuale. Sì. E anche quest'anno abbiamo dato abbiamo assegnato sei borse di studio del valore di mille euro per l'università e di cinquecento euro per gli istituti superiore. Questo avviene ogni mese di maggio? Sì grosso modo nel mese di maggio noi facciamo quasi sempre a maggio la l'assemblea. Ecco in futuro noi abbiamo abbiamo adesso partiamo con un altro progetto sempre rivolto ai giovani e precisamente ai quinti ai giovani che frequentano il quinto anno dei sei o sette istituti eh diciamo superiori che abbiamo nel territorio ma anche nella val d'Aquila con eh un progetto che abbiamo voluto chiamare idee al futuro un progetto che prevede l'esecuzione di un lavoro da parte eh di chi aderirà dei ragazzi che aderiranno e dell'istituto che aderirà e che in effetti eh avrà abbiamo messo a disposizione anche per questi per i migliori elaborati su quest'idea al futuro ma per stimolare soprattutto i giovani a ragionare in maniera tale da dire noi con questo progetto vorremmo eh desidereremmo rimanere in questo territorio e non andare via fuori da questo territorio e anche questo un life motive diciamo della banca quello di stimolare le coscienze di tutti eh di noi adulti in prima persona. I famosi talenti insomma delle istituzioni. Fare in modo che rimangano. I famosi talenti ma io dico tutti i giovani che possano rimanere addirittura e cerchiamo di far tornare i giovani che possono tornare se questo fosse possibile concretizzarlo e realizzarlo. Altrimenti il nostro è un impegno che se ne va in fumo e eh di questo impegno poi di concreto resta molto poco. Benissimo. Benissimo. Allora eh abbiamo capito che il circolo banca Monte Bruno fa tante attività eh per valorizzare i talenti giovani del territorio. Naturalmente eh buona parte dell'attività è rivolta soprattutto ai soci della BCC Monte Bruno ma anche alla società più in generale eh l'esempio tipico il festival baby il baby festival quindi opportunità per i giovani di tutto il territorio di partecipare. Eh il tempo è finito eh noi ci diamo appuntamento in una prossima puntata speciale di Banca Amica per approfondire altre altre attività del circolo Banca Monte Bruno. Eh dottor Recinito grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie a voi.